Gianni Colacione a Palazzo Brancaccio per LibriTV, siamo in commerciale a Rio, che è proprietario delle cantine a Rio e qui in questo evento al Palazzo Brancaccio si sposerà l'eccellenza francese dello champagne con l'eccellenza italiana del cibo. Ci facciamo anche spiegare un pochino da Messerario, grazie a Barbara Rinaldi che ci farà da traduttrice, poi il significato di questo evento e anche un pochino la storia di questa cantina prestigiosa. E' sempre una storia di incontro, come quella di questa sera? E' l'incontro di due savoir-faire, un savoir-faire francese e un savoir-faire italiano. Il savoir-faire francese in Champagne è la tradizione nell'elaborazione dei grandi vini francesi della Champagne. E qui a Palazzo Brancaccio è una sorta di savoir-faire italiano sull'arte di vivere. Ed è per questo che la famiglia Arcioni e la famiglia Arcioni sono legate da tantissimi anni, da qualcosa che è molto prezioso. Il savoir recevoir con eleganza. E il saper ricevere con grande eleganza. Avete qualche prodotto particolare, qualche linea particolare della vostra cantina che presenterete qui oggi, che abbinerete all'eccellenza italiana? E' una cosa che è particolare nella Maison Arion è che tutto viene elaborato su una colonna vertebrale dei grandi chardonnets della Champagne. E' quello che dona la razza e la purezza dello Champagne Arion. E' anche l'importanza in qualche modo simbolica di questa promozione della Francia in questo momento. Penso che magari qualche cosa si potrebbe anche dire su questo. E' molto commosso di essere qua questa sera perché questo dimostra che la vita non si ferma mai. E i romani che ci accolgono stasera, che accolgono la Maison Arion? Non dimenticano che la vita non si ferma mai. Lo Champagne per Roma. Grazie a Messina Arion e grazie a Barbara Rinaldi. Grazie a tutti.